Iniziamo ad applaudire, iniziamo a prepararci per questo grande finale C'è anche Messick nelle prime posizioni Il meglio piazzato in questo momento è Greg Raipel Attenzione anche a Modolo, c'è anche Colli nelle prime posizioni Lanciato lo sprint, dovrebbe essere Boivon Poppe che va ad apprestarsi a lanciare lo sprint per Giacomo Nizzolo Boivon Poppe è al comando, qui in parte è Ederson, c'è Greg Raipel, anche Ausler attenzione Lanciato lo sprint, abbiamo intravisto anche Bonerna, pochi sacchi al termine, lunghissimo sprint Figliani sul lato destro, c'è una leggera sbagliata, parte Graipel Attenzione, c'è una caduta intorno alla trentesima posizione per quanto riguarda questa volata Graipel, 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 altre Graipel Primo Graipel su Pelufi Primo posizione Graipel, Graipel, Lorenzo Graipel